Siamo proprio curiosi di assaggiarla, sicuramente sarà buona. Intanto, guardate intorno a me, ci sono tutti questi prodotti e sono tutti prodotti che sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Perché sono stati sequestrati? Perché c'è un rischio, un rischio importante per la nostra salute, per la salute del nostro ambiente. Allora, ne parliamo questa mattina con il colonnello della Guardia di Finanza Alberto Anastasia e al capitano Roberta Schiavulli. Grazie per essere qui. Allora, intanto, perché sono stati sequestrati? Quali sono i danni che possono provocare? Sì, buongiorno. Io partirei innanzitutto dando una dimensione del fenomeno della contraffazione. Secondo l'ultimo rapporto Censis, il danno provocato dalla contraffazione all'economia nazionale è superiore ai 17 miliardi di euro. Quella, così tanto? Sì, con perdita di posti di lavoro per oltre le 90.000 unità e con una ricaduta in termini di minor gettito erariale, quindi entrate per le casse dello Stato, nell'ordine di 4,8 miliardi di euro. Questo perché? Quindi partiamo, siamo partiti in questo caso proprio da un danno economico. Assolutamente sì. È importante perché la contraffazione rappresenta un vero e proprio moltiplicatore di illegalità, perché presenta strettissime connessioni, alimenta diversi circuiti illegali. Pensiamo ad esempio all'evasione fiscale contributiva, ma anche al lavoro nero e irregolare, anche allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, per non parlare di riciclaggio e delle connessioni con la criminalità anche organizzata. Allora penso, visto che noi ovviamente parliamo al nostro pubblico, a casa dicono anche noi che cosa possiamo fare? Possiamo fare tantissimo, perché nel momento in cui andiamo ad acquistare un prodotto, dobbiamo essere certi della provenienza del prodotto. Faccio un esempio, adesso ho preso un casco. Allora pensate a un casco, la provenienza comunque del casco, non solo alla parte economica, quella che stava raccontando il colonnello, ma anche sulla nostra sicurezza. Perché se questo è un casco conforme alla comunità europea e quindi rispecchia anche tutte le prerogative di un casco, noi siamo sicuri nel caso in cui dovessimo cadere. Gli altri potrebbero invece non tenere. Assolutamente sì. Pensate al ciclista, pensate a chi fa sci, pensate a qualsiasi tipo di casco, anche quando si fanno dei lavori. Assolutamente, è proprio così. Pensiamo ai danni in generale alla salute dei consumatori. Il nostro punto di vista è questo. Chi vive di contraffazione non si fa remore ad utilizzare qualsiasi genere di prodotto, di sostanza, anche all'utilizzo di cicli produttivi, che possono provocare danni per la salute. Quindi evidentemente questo è un rischio. E l'altro rischio correlato è quello connesso allo smaltimento dei rifiuti connessi a queste produzioni illecite. Allora, dopo torno da lei e vediamo anche proprio gli interventi che avete fatto. Intanto, Capitano Schiavulli, io partirei. Iniziamo dagli occhiali. Innanzitutto, gli occhiali in questo caso hanno un marchio che differisce dal marchio che viene indicato sull'etichetta. Quindi da qui ci rendiamo conto che è un primo campanello d'allarme. Esattamente, è un primo campanello d'allarme che appunto ci permette di individuare il falso e di procedere al sequestro. Sulla sicurezza, ad esempio, perché comunque l'occhiale è fondamentale, perché lo mettiamo oltre per la moda, però l'occhiale ad esempio da sole, perché deve comunque bloccare i raggi del sole. Può provocare gravi danni alla vista, perché i materiali con cui sono realizzati sono comunque scadenti. Lo stesso vale anche per le scarpe. Qui vediamo un marchio nettamente differente da quello originale. Però sono fatte bene. Sono fatte molto bene, però il marchio può differire per grandezza e per forma. Quindi è quasi impercettibile, però sono sicuramente false. Allora, qui invece abbiamo tutti i prodotti che possono essere utilizzati soprattutto dai nostri figli, dai nipoti, a contatto anche con la pelle. Sì, questi prodotti intanto devono contenere le indicazioni minime di sicurezza, anche in lingua italiana. Per quanto riguarda i giocattoli, devono anche indicare l'età del bambino. E qui possiamo notare degli articoli che non contengono queste indicazioni e sono anche questi costituiti da materiale molto scadente che può provocare irritazioni, arrossamenti, danni alla vista, all'udito, ecco, qualsiasi tipo di danno per la salute. Allora, passiamo invece all'abbigliamento. Perché anche questo, guardate com'è ben fatto. C'è qualcosa che potremmo andare a vedere nel dettaglio e potremmo capire dicendo questo comunque non è originale? Innanzitutto la mancanza di un'etichetta all'interno del giubbotto. Poi possiamo renderci conto anche dalla fattura, dal tatto, la cerniera che può essere difettosa o comunque dei filamenti che fuoriescono e anche il marchio qui differisce da quello originale. Quindi ci possiamo rendere facilmente conto che un prodotto è contraffatto. Quante volte lei ha comprato un caricabatterie? Perché comunque si è rovinato, si è rotto. Le cuffie per parlare al telefono, quante volte le abbiamo perdute e quindi le abbiamo dovute ricomprare? Ed eccole qui. E allora, capita quindi, ne troviamo veramente in qualsiasi negozio, le troviamo anche per strada. Attenzione perché intanto il cavo, che non è conforme, potrebbe andare a bruciare anche la batteria del telefonino. E poi anche gli auricolari, che cosa andiamo a mettere nell'orecchio? E qui come facciamo a vedere però se è conforme? Perché di solito dietro c'è, ecco, sempre la comunità europea. Esatto, ogni prodotto deve essere accompagnato dalle lettere CE, lettere della comunità europea. Qui possiamo notare come le lettere sono molto ravvicinate tra di loro e tendenzialmente bisogna creare un otto perfetto dall'intersecazione di queste lettere. E qui effettivamente non è possibile. Per concludere, i profumi, attenzione su che cosa? Sulla composizione del profumo. Ci sono delle sostanze dannose per la salute, come ad esempio il Liliam, che da 1 marzo 2022 è vietato. E su alcune confezioni viene anche, diciamo, indicato con diverse terminologie, ma comunque è vietata dalla legge. Allora, mi raccomando, veramente fate attenzione. Allora, colonnello Anastasia, ritorno da lei per vedere proprio e commentare questa slide. L'otta alla contraffazione, risultati operativi 2021-2022, tantissimi interventi, quasi 11.000. Sì, gli interventi sono significativi e significativo lo sforzo che la Guardia di Finanza mette in campo per contrastare questo fenomeno illecito. Ma non è tutto, perché i nostri reparti non mirano soltanto a sequestrare la merce contraffatta, quindi a intercettare i carichi, ma mirano a ricostruire l'intera filiera del falso, andando a disarticolare l'intera filiera. Immagino che sia molto più difficile quando pensiamo a quello online, quindi la vendita online. Anche lì avete chiuso tantissimi siti. Assolutamente sì. Sul mondo dell'online abbiamo in essere una serie di attività, tutte orientate a un monitoraggio costante e permanente della rete. E allora, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, veramente grazie, grazie per il lavoro che state svolgendo, perché i danni sono tre, quindi abbiamo detto danno economico, danno sulla salute nostra e danno per l'ambiente. Infine anche il danno al mercato e agli operatori onesti. E certo, grazie, grazie per essere stati con noi, buon lavoro.